non fermiamo il cacchetto per favore non è travenzione il conto tu stavate qua ma io lo faccio 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 voi ademene per tutti che sa scolar ecco il Zaspera mi giuro eh a partita Vitano Vitano sa scolarci con me Zaspera ve lo faccio vedere sempre lo faccio ve lo vediamo mostri appena la dama ho visto questa qualificazione allora ve lo faccio vedere la dama come deve come deve stilare la dama voi sapete stileva brutta otto il cuore sorridere ma che stai ma chi è il mio funerale dai alza la mano ma non così si parte con la sinistra qual'è la sinistra? si è ziccato va bene allora noi facciamo un po' di passi lato via lui qua pronti? vieni da la sinistra su stile dritta giriamo giriamo questa è la mia cosa questa è la mia cosa questa è la mia cosa allora fermi dai che non ti muove eh allora ondeggia ondeggia muscoletta ondeggia va bene va bene va bene fermi a cucin' fermi a cucin' fermi a cucin' che c'è la sinistra? la sinistra la sinistra la sinistra la sinistra la sinistra è tutto uguale è tutto uguale è tutto uguale tutto nello fa come si pare fa occhio le scena che me sento poi sono andato in strada c'è io fai un strada allora ve lo faccio vedere la chiarina la chiarina tutti c'ha la faccia la chiarina c'è un momento dammi una mano allora innanzitutto lezione numero uno come si t'è la chiarina fammelo vedere come si t'è no questa è per fare la cazzo una volta poi fammelo vedere così come a cucin' vicino qua non doci attaccare ok così niente abbassi non fai l'ingangatrice perché tu allora partiamo dalla sinistra ramemelo e ramemelo ecco sei pronto alziamo pissa la dama perchè dopo facemmo la sfiata a città allora lo pronto andiamo dalla sinistra oh no questo non può sforare ragazzi se c'è i diri carabinieri si arresta fermati ciro durante un momento va bene così fermi non ti prendi non ti prendi oh c'è l'orecchino c'è l'orecchino c'è figlio c'è l'orecchino c'è questo allora quale ora chi ci sta il tamburo il tamburo il tamburo solo loro sanno solo loro allora ci sono individuati perché gli fanno il tamburo allora allora scappa tutta eh faccio la bambina l'hai visto allora hai detto il tamburo eh fammi sentire fammi sentire questo sta sbattolova 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 oh pianissimo pianissimo va bene va bene gira di 11 fa se mi giro tutto eh gessate